lo spero per te allora allora tre secondi vai fai la tua intro da youtube non posso fare la mia intro per qualcuno faccio la intro al posto mio morirò molto presto ma hai fatto una storia su youtube ho fatto una storia su youtube senza da merda ma che appunto è fatta adesso no ma come è morto 5 euro vabbè in appare offline mentre c'è gente che bella tipo toxic bella ragazza allora io ho da dire una cosa molto importante tra cui non ho voce tra cui non ho voce però va benissimo nel senso ci sta a maggio 128 spettatori buon salve ragazzoni come è stato spero meglio di me spero molto meglio di me allora io devo salvare le impostazioni giusto ma la copertina no si è messa no come no si è messa e io non la vedo io non la vedo va bene aspetta che metto la privacy del gruppo x vision grazie vision per cinque euro grazie mille ciao ragazzi ora vi saluto tutti ho aperto la chat un minuto mio dio la mia voce come ci si abbona al tuo canale perché questo titolo allora vi spiego perché questo titolo perché non avevamo un titolo volevo mettere già i miei ma è come potete vedere la mia la mia tonalità credo di essere non lo so tipo i miei toni si sono abbassati di non so quanti decimi comunque ma r6 in live molto presto ma non è questo il giorno perché oggi porteremo un gioco molto molto brutto no allora io questa skin non la posso vedere vi prego regalatemi una skin bruttissima mettiti quella la ancora più brutta allora aspetta si io metterò una skin no vabbè lascio questa ho iniziato con questa come fai ad essere così alta di livello alta su livello 3 r6 è morto perché sei scomparso a caso non sono scomparso a caso allora vi spiego tante cose che sono successe questo periodo è stato molto brutto e allo stesso tempo stavo lavorando un progetto è partito da tipo troppo sì da tipo troppo tempo mi lanca la live no riavviala allora come vi stavo dicendo è stato un periodo abbastanza schifoso brutto bruttissimo sono successe un po di cose a casa comunque poi ho iniziato a lavorare a un progetto abbastanza grosso ciao simo ciao dragos fatto sta che comunque questo progetto non è andato benissimo ci sono state un po di salutami kate kate ti saluta toxic calve ci sono state un po di ostacoli non sono stati superati in modo abbastanza consono e abbiamo deciso di tagliare anche nuovi progetti e quindi si torna a fare live e doppiaggi strapotenti ma non oggi perché se doppio oggi penso che morirà un doppiatore nel mondo in italia non è il mondo in italia che si ringrazia anche ma che scendiamo ciao pomodoro ma dove scendiamo cos'è il quartiere io andremo al quartiere mi sono buttata solo un genio andiamo a borgheta borgo bisogna a borgo dove mettimi il punto ti prego quel punto viola sono uguali perché il blu tirato allora devo ammettere che ho attivato la modalità d'alconica su fortnite e funziona rispetto a quella di red dead che red dead non cambia un cazzo perché fan fact sei d'alconica come andata la partita su rainbow six sole donne allora la partita su rainbow six sole donne è andata piuttosto piuttosto ma non è fatto un torneo non è stato fatto un torneo quindi verrà fatto prossimamente forse se non mi venga col piccone due default skin fate schifo sei morto ma quanto tempo ci impiega a scaricarsi forte lo dirà subito kate che l'ha scaricato da poco no vabbè diventa la connessione poi ma parli della serie sul red dead perché se non la fate mi ammazzo no allora la serie andrà avanti dobbiamo solo un attimo riprendere le si dobbiamo un attimo riprendere porca miseria si arrivo otto di vita 88 non ritorno alla lobby e che lo disinstallerò si torna a fare live e doppiaggi 0 25 no no si torna a fare la di doppiaggi sì questo sia assolutamente bene di la richiesta da amico mi chiamo mi aspetta devo spammare un po di questo ma il problema c'è il fatto quello che l'id di questa persona è il mio nome sulla play 4 è cosa ha detto mi mandi la richiesta amicizia mi chiamo te l'accetto lunedì e lui il mio nome sulla play è ma sei dal tonica scusami non ho capito allora sì sono dal tonica soltanto più o meno ho fatto un test soltanto più o meno per due colori per le sfumature di verde e di arancione cioè tutto quello che deriva dal verde e dal rosso praticamente ma io non c'è il mio nome quindi rosso giallo verde marrone insomma tante cose che si assomigliano più viola ecco sono tutte sfumature che possono appunto assomigliare casa mia non l'ho ancora capito allora vi racconto questa una volta ero in macchina con una signora che mi doveva accompagnare a casa con un mio amico e dovevo indicare la casa in cui vivo e ho detto questa signora abito al palazzo abito al palazzo giallo giallo lei si è guardato un attivo intorno il palazzo era arancione scuro però va bene uguale l'ha capito l'importante è che sono arrivato a casa non puoi giocare creepos con noi assolutamente se hai il fortnite un giorno faremo live con iscritti e potrai giocare tranquillamente dove andiamo prima che mi butto di nuovo a caso saluti suoto suoto ciao andiamo qua buon posto buon posto allora non riesce a distinguere il sangue dal che quello si tratta di gusto non un pezzo riprembo perché tutti stanno dicendo che il rimo è morto il rimo è tipo una meme è morto il rimo muore ogni stagione il problema che riparte la stagione dopo il rimo è esatto sta per morire lentamente ma non è vero allora stanno uscendo giochi veramente belli redhead non è conosciutissimo ancora non va fortissimo ma secondo me finchia redhead redhead nel senso non va per un cacchio non va assolutamente e me ne sto rendendo conto però secondo me potrebbe col tempo diventare diciamo un'ottima attrazione poi ora c'è stip gratis però stip è morto ciao samu fuoco grazie stip è bellissimo io stip devo dire la verità ancora manco l'ho provato però però no a me non è piaciuto per niente lo provano a me l'ha provato un mio amico dopo cinque minuti che ci ha giocato ok no mi sono scocciato sì no sta a casa sì sì uguale che è lo serio scusate lo butti e praticamente di tutte le strutture che stanno attorno e aumenta sempre di più il raggio stip è uscito un mese fa aspetta due mesi vedrai cosa sarà più conosciuto che ti sei buttata potrebbe potrebbe avere qualche ma beh stai arrivando stai arrivando anzi no robbie quando è il tuo compleanno il mio compleanno è ad aprile farò la bellezza di 21 anni di vecchiaia sì hai ricevuto un regalo di natale no perché che senso allora ti regalo questo tieni aspetta robbie robbie dobbiamo farle meglio ma vai a fare il culo tieni 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 non lo so usare tienilo a me anche i colpi ti do tutto se tu vuoi questo guarda robbie guarda che cos'è è un pacco regalo in cui dentro ci trovi una cosa leggendaria e in questo caso me la sono presa io che cazzo era se vuoi questo no no pia troppo io se ce l'ho l'altro ah ma io c'era anche quello perchè quando fai le labie con la webcam le fai in bianco e nero così almeno distingue i colori ma non c'è bisogno il problema è che dalla luce che c'è in stanza già le fai in bianco e nero cioè quindi se io faccio così se fai così in che senso non distrugge nulla ah si ma è qua kate no scherzavo guarda questo è il piccone delle le adoro le adoro queste pistole madò io adoro il mio personaggio con queste pistole ok questo è il piccone dei 14 giorni di forte ma non mi piace pensavo fosse qualcosa guarda no 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 fai la voce di Yoshi fai la voce allora dovete capire che sono la voce quindi io ho da 12 giorni 17 anni lol ho da 12 giorni 17 anni bene mi fa piacere aspetta ma oggi è 12 ah aspetta cosa oggi è 12 mi confondi ragazzi fai anni o fai anni il primo o 31 mi confondi ah no fa gli anni il primo per forza no se è da 12 giorni dipende se è nata a mezzanotte è nata a mezzanotte in verità lui è il nuovo messia oh mio dio Yoshi da vecchio povera te con sta tosse no ragazzi è bruttissima io infatti ho detto no volevo fare uno live vabbè la faccio lo stesso sti cazzi la tosse è nata ah è nato il primo il primo il primo 2001 capito ah puoi fare adesso i porno tanto sei legale no ancora no ah ah cazzo no allora io mi ricordo che la prima questa cosa è triste la prima volta che ho stato in moto fortnite io pensavo che l'hai presente il 37 che vediamo lì sotto la mappa pensavo fossero gli spettatori già pensavo fossero gli spettatori in verità è l'occhio che sta in basso a sinistra quando ti spettano è per vedere se sei cieca o no se li vedi oppure no quando si attiva e quando c'è gente vicina vieni qua Robby dall'altro lato no c'ho un c'ho una cosa per te devi correre però devi correre più veloce infatti quando stavo per nascere metà ospedale assisteva con lo champagne dico tieni eh che cosa hai wow grazie ma c'hai quelle piccoline no che italia potete piccoline lo scazzo no non l'ho trovata stranamente stiamo in più benissimo niente ora mi spuntano avanti sicuro da 118 a 31 cosa ciao ciao ragazzi benvenuti bentornati come va la vita spero tutto bene adesso adesso andremo molto molto oh c'è qualcuno stai spaccando stai spaccando merda no chitte non c'è nessuno era la mia pallina da gol era la mia pallina da gol siamo fuori safe toga sotto minchia ehi l'alme ciao no vabbè l'alme che dice wow è sublime wow e l'fs4 anche noi manc pc c'è tutta altra storia oh raga 31 spettatori 31 giocatori rimasti ma in verità sono 3 ah ok ora sono 3 eh però ripartirà con 128 eh robbi non ci siamo devi pagare un po' di più no vabbè ci stanno in live a luce tecnoid ci credo che non c'è nessuno ah pensavo ciccio gamer si ci sta gente a corso commercio no niente ogni volta che la persona dice ci sta gente a ti fa ridere perché c'è il normale come dire c'è gente a finnacoli vabbè che c'è in test di geometria se io faccio consolato per consolato o la consolarea eh la consolarea se io lato per lato aria madonna figlio se io faccio consolato per consolato comunque si non ho capito no no quale parte del c'è gente qua non fate casino vabbè lo sparato ma io sto spottando io alberi ma sei di sicuro che c'è gente qua si ho visto uno volare col palloncino vuol dire che è andato via un salto ok ah ma io non ho materiale tanto per già no si ti serve ti serve per costruire no non so costruire per cui voglio solo le mie pistole super oh grazie so md lei md lei md lei non ho capito questo è mio oh mio dio c'è uno scudo grande qua glieli qua fi ora ce n'è stan vabbè ma bello fumo ci puoi chiedere io no oh c'è un aereo raga attenzione il vietnam ci buttano il napalm fate attenzione cos'è un aereo ci sono ieri si sbordano oh no quando ci sono ieri non senti questo rumore questo qua sopra di noi si l'ho visto si è buttati si sono buttati attenzione no io voglio le mie pistolette oh oh figlio di puttana ma se lo buscio porca puttana no raga mi ho messo a terra si ce ne siamo accorti eh ma io c'ho il jessica che non va come si è che non va che io sono morto sappi ah è uguale come confondere una persona basta un aereo no ho preso warrior quindi lei va si è un aere gratis che cosa no raga questo è oh mio dio figlio fuggi fuggi che gioco di me questo butta qua che gioco di merda che grandissimo gioco di merda ti sei avvicinato già non lascia razzi già che spettacolo che gioco di merda che gioco di merda che gioco di merda io spero in un posto di gate ci sta andando molto vicina molto vicina quando farai la parte 4 di chiuso provaci ancora è uscita adesso la 3 cioè devi aspettare minimo un anno e mezzo come tutte le altre dai ho sbloccato la pallina di neve sono una persona felice aspetta me la metto vado a cazzo toxic 3 punti di sospensivo che è la pallina di neve scusa me non lo so se fai una sfida dei 14 giorni di fort ti dà la pallina di neve che è tipo il pomodoro che lo vuoi lanciare nessun troll live che gioco di merda aspetta a partire ciao jacobo fortnite ormai è diventato noioso alibi ti ricordo di me ciò fortnite ormai guardare perché sono curiosa di sapere cosa su youtube ormai vi interessa guardare perché sinceramente fortnite è un gioco che ho voluto io fortnite ogni stagione gli do una possibilità poi lo ributto giù però ogni stagione gli do una possibilità tipo la stagione scorsa hai comprato il pass e poi lei ti si sta guardando ah no si oh no r6 avete maniato per fortnite c'è quasi da due anni ed è ancora scritto accesso anticipato non è da due anni almeno un anno e mezzo no si ormai no è no un anno più o meno io ho iniziato a giocare cioè tipo iniziai a giocare quando usci proprio bello allora se dobbiamo giocare resident evil lo seguiamo da kate non sul mio canale io non sono sempre stati portati da kate quindi lo seguiremo sul canale di kate dove? da berth di the jock andiamo 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 mi sto mettendo una coperta addosso perché sto morì ok rossi come giochi cioè io due residenti io ce l'ho pronti volevo giocare di con l'ansia ma non allora facciamo così non ho abbastanza credito per comprare resident evil però se se arriviamo con la nostra wish list se vedete se vedete una live di fortnite sapete perché ci facciamo ciao il 5 che il 5 è proprio bello si con le prossime donation mi sa che portiamo allora un nuovo contenuto tipo overwatch anche overwatch alla fine nessuno se ne ha creato più eh no neanche overwatch se ne ha creato più ma io non vuole capire la tentazione gioca ma potevi anche finirli colpi che che voglio un'arma non c'ho armi attento c'è un nemico cioè non ha fatto nessuno ma che cazzo d'è voglio un'arma qualsiasi vi prego fatemi uscire fatemi uscire che cazzo morca puttana ah Robby ma io non sono con l'account nuovo non sono moderatore questo canale ah shit eh ricordami no io devo fuggire ho solo il piccone salta sulle gomme salta ma dove salgo ah non puoi eh non puoi no hanno messo il portatile fui fui mi leggo tra cento un attimo io non riesco più a pia la cosa ma qui non c'è colpendo così forte è una condanna a morte rincazzotà beh vi dovete sentire in colpa se Alibay non porta Resident Evil dovete sganciare la grana e lei compriva che Resident Evil il vero alibi voi lo sapete con ogni donazione si porta avanti quando l'epic prova ad abortire quando l'epic prova ad abortire ed esce Fortnite ho 85 euro sulla post per i li vuoi te li dono Andrea Ricci io non non chiederò nulla a nessuno se ti faccio ridere siete voi se ti faccio ridere aspetta 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 se ti faccio ridere mi metti mod come dovevi mettermi quando avevi creato la parodia di Bana in Havana però purtroppo sono stato off non ho mai detto che avrei messo bene però ok no i miei moderatori sono persone che conosco da anni quindi mi dispiace da abbastanza tempo da poter da un anno perché è già 2019 e li conosco al 2018 ok beh non è che se ci conosciamo il 31 dicembre 2018 ed è fino a gennaio ci conosciamo da un anno fai illudere dei miei sogni io sono ancora viva si però non hai armi no sul serio dove cazzo sono le armi cioè io non ho trovato mezza arma buonasera Max vai continua a diritto in colare va un attimo ti sento a prendere una cosa vai vai li conosco da tanti anni oh Robby faccio scusa oh dai le pistole prendi quel legno dai che perdi sta partita dai buonanotte cos'è quella roba là luccicosa lo voglio le cose che luccica non mi piacciono ma è un ma è un cespuglio ah i cespugli luccicano eh a natale gli mettono le lucine di natale è un po' è un po' indietro fortnite cioè fra poco è primavera cioè Gesù sta sta tornando tra poco rivela Robby ma non è la concezione del tempo non è Pasqua 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 vabbè la risposta te la sto a posta sai cosa dice un'anguilla ad un'altra anguilla stai tranquilla oh mio Dio voglio morire cioè se avevo sai cosa dice un dino ad un altro dino ma sei da no no cosa che dice dai non parla una tossica di merda ma le pistole io le avevo chiesto una prima che belle le pistole ora mo Alibari chi è il tuo pusher eh sapeste non posso dirlo saluto il pusher ma non faccio il sonno Giovanna brava mi conosco da da un anno di tempo si si crediamo oh guarda che è passato un anno da quando conosco nel senso lui sapeva delle mie esistenze da un anno ma in verità io conosco te da tanto eri tu che non conoscevi me esatto quindi dai ci sta e non è ancora moderatore però si the dubbers ciao ma in verità ma ma si che sono moderatore ah si no con l'altro account eh ma col primo si che era eh no vabbè a posto a posto non c'è stato un problema ma il raffreddore oltre ma oltre a portarti la voce del cazzo ti ha portato anche un po' di abismo quello è sempre non solo il raffreddore ah ma io ce l'abbè non servono un cazzo ah lo bello c'è poco vado altro che i polli che hai trovato altro che i polline che hai trovato i cromosomi ho trovato la pizza madonna che non ti esplosa che pregano le patatine che san crispino sì no san crispino no san carlo san carlo san crispino è il mio ah no ora mi vuoi il commentare della partita vai no mi devi leggere pure i commenti grazie ma mi posso sviluppare questo giocatore vuoi fare mettiti tre palloncini mettiti tre palloncini tre ok salta ok e quando sei abbastanza in alto premi tre volte r3 voglio vedere fin dove arrivo è un po' si buca la storia allora cioè ti prego giuriamo insieme mi sono convertito al gatto licesimo che devo premere siete i migliori ecco l3 r3 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 un'altra volta un'altra volta un'altra volta ma muoio eh e tu hai detto come faccio a morire tu hai detto tu volevi chiesti no ragazzi non sono la ragazza tigre sono la ragazza ansia la ragazza tigre è un'altra persona e non credo faccia il suo rainbow e basta questo è quello che penso di voi grazie ormai saranno 8 mesi che sono abbonato tu sei un grande simo l'ho sempre detto e sempre ormai saranno 8 mesi che sono abbonato sei un grande e continuerò a ripetere abbonato 8 mesi aspetta c'è qualcosa che non cosa 8 mesi c'era un abbonamento del canale probabilmente si da prima che mi conoscessi perciò sai che gli abbiamo iniziato a parlare seriamente ad agosto e sono da agosto che è 8 9 10 8 saranno 6 io vi conosco da metà luglio perché avevamo il server su il server discord ma fino al 6 il 16 agosto te lo mi cagavi no a me la prima no a te si ciao mattia basta ciao dragon sapete perché radio mi riaprendo ovunque perché è un'antenna della madonna ugo è morto dragon allora mi fa piacere il fatto che ci siano 37 spettatori e sembra che ne stiano scrivendo 800 però ok perché siete ciao mi saluti siete sempre le freddure quelle brutte freddure che mi fa no questa era bruttissima vuoi fare uno su uno no ma che doppiate da io la voglio fare io vuoi fare uno su uno te lo faccio fare a i maiuscola o minuscola x maiuscola i minuscola io voglio andare qui come si mette è il mio insegnante fortissimo vai andiamo a container andiamo a container andiamo alla no sapete cosa ha un maiale sapete cosa ha un maiale quando cande oh mio dio uno di voi uno di voi eh si ma fate creativa con gli iscritti si potrebbe fare facciamo che se siamo un po' di più si fa uno di noi ah io ci starei pure però dopo la live giusto per vedere io non faccio uno neanche sul giusto per vedere voi sul red dead ancora ancora vi direi di si però qua no parappappà non mi ricordi di estera altra di estera madonna madonna posso fare una partita con voi eh se facciamo la creativa dovrei fare anche se non so no raga ci dovete chiedere un 2v2 a me e kate sul red dead quel giorno saremo felicissimi ho sbagliato eh vabbè ciao lo fa il mio amico ma come ma come lo fa il mio amico all'uno di uno no è tipo quando quando i bulli chiamano la la come si chiamano gli amici perché devono fare il nero il nero no vabbè ma non penso sia questo caso no alla fine questo ragazzo ha tantissime buone intenzioni e non è per nulla ostile immagino un palchietto di palcini perché se no siamo ritornati a gta 2016 ma anche adesso vabbè non è che adesso quando la gente faceva vabbè si si amiche ore a fine partita diciamo ah eh eh infari col mio su youtube bastardo si chiama lo un nome più semplice io faccio screen per secondo diventa eh io ho delle postettine per voi perciò se trovate le postette cioè poste grandi non ve le falte no le mie pistolette bello le trovo vabbì eh comiar vieni grazie io c'era la portetta grande vieni ti do quelle piccoline così arrivi a 100 vieni vieni io adesso sto gioando a gta 5 storia finchia storia che bello non l'ho mai giocata 2013 io l'ho giocata quattro volte quale coraggio il coraggio di fare di avere più account e più playstation ok posso prendere il livello con le pistole mi dà si 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 royal hola si rega comunque mi si sono bloccati degli spettatori ah si in che modo te ne sei accorto si si no io continuo a vedere 57 cioè guardo il numero delle persone rimaste no invece di quello degli spettatori come si chiama la tuta di batman alla battuta ah ah ciao ah si alibi ha messo la modalità d'altonismo eh già che sul redhead non funziona io per leggerla certo sto picchiando dai ragazzi anche io voglio fare una battuta vi prego no reale battuta reale non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito sorry puoi ripetare un mio amico ha preso un cane e l'ha chiamato Dio Kate ti ricorda qualcosa Dio oh mio Dio Lino come sta Dio come sta Dio sta facendo una vita sta facendo una vita da cani viva la libertà ha detto che devo continuo a rompere le palle il cane il cane il cane si si no no il cane il cane sono vero le persone lo chiamano così ragazzi è veramente un cane che ormai per me è solo un minato Dio tra l'altro non ho meno ma per me Dio quando minchia quando l'abbiamo visto la prima volta era una cosetta piccolissima io invece di giocare a GTA storia e gioco GTA matematico Robby no non te ne andare resta con noi in questa super mega mega live in cui la mia voce non è più da trance grazie grazie a voi è riscaldata si sente prima era più è una città ragazzino Alibi sai cos'è un merluzzo non lo voglio spiegare un uccelluzzo che ti schiuzza belle le le battute rubate dalle a sgottare no le battute rubate hai presente con i libri dell'anibri mistica madonna adesso diventano pure aspetta questa questa è una domanda interessante non so molto l'importante quando fa Kate a GTA 5 e le live che in soggettia sono sempre belle zombie giochiamo con la persone quando ci sarà le live con le persone non adesso tanto siamo scarsi comunque non c'è problema io le live su rainbow le posso pure fare ok c'hai la copertina pronta da un mese porca puttana c'è un tizio due tizi via puggi arriviamo tre tizi mi chiamo ma come sei squadra con noi questo ma dove uno è nord uno è nord e l'altro gli altri porca puttana c'è la davanti perché è lo scudo ma dove davanti ah ma là no 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 qualcuno mi copra è robin un attimo oh ma io non ho un pompa oh ma accanto accanto grazie no regà io non ho un cazzo non ho manco un pompa l'armata dei tizi r6 falla adesso al posto di sta mierda alibi sai come si è ammazzata clicca live alibi per vi box grazie ok no no non lo so bah fuggì ho visto che siete tre invitate un iscritto tipo io ma facciamo creativa ma facciamo creativa facciamo creativa va bene si ok eh come facciamo per far entrare la gente qualcuno che di buon cuore che spiega in chat adesso come funziona la creativa si esatto qualcuno mi spiega come funziona la creativa così entrate tutti ok so io sono you lost in questo momento perciò mosè ha bagnato il mar rosso ma perché Roby dice sempre addio e comunque resta perché vuole giocare con noi e diciamo diciamo di no ma vi ho detto che potete basta che avviate e mettete per la pubblica ok grazie a tutti ok va bene ma start da me vai gioco comunque si dovrebbe fare che si può cambiare gioco per le live senza doverle restartare pubblica applica creativa obbio non saluto nessuno ai play una volta ci sono cascata non ci cascherò ma in terreno potete entrare pure dalla comunità anche se non accettate la recensione forse no so o c'è tl dark dredd dredd o questo da gioco il primo raduno su gta online si può fare però nelle live adesso no ma non posso farlo adesso lo deve fare o lo fa kate io non posso farlo perché non non posso cambiare live la possiamo fare ma non si vuota la comunità la creativa funziona solo con gli amici devi avviare un server con la privacy pubblica e le persone possono entrare quindi dovresti accettare tutte le persone che ti vengono gli amici dovresti accettare tutte le persone perché il coso è tu eh ah cazzo beh uccidetemi se hai detto una live solo con gli abbonati yes ora poi mi raccogliamo un po' tutti sei ciccio gamer si si bella la miniatura grazie canale morente no ti prego che tristezza ma chi l'ha scritto ma chi l'ha scritto un tizio no si chiama vortex tm canale morente ah ma lui pensavo avessi scritto a te canale lo porterò lo porterò buongiorno questa roba è la creativa dove eh ma io come accetto le richieste dovete entrare qua il quartiere no questo è il mio oh totu c'è totu eh da quale entrava quello ragazza anche ha il quartiere 1 quello ma non c'è niente là dentro da dove eh vabbè che vi devo dire andiamo là ok ma è massimo 5 persone ah raga io non so dove state si dietro di te da dove Kate dietro qua ma ci vedi Kate ah capito ehm roba devi accettare quindi no è lui che deve accettarlo oh Jenny341 nuovo abbonato oh grandissimo Jenny benvenuto nella nostra famiglia degli yoshini senza morire grazie benvenutissimo benvenutissimo questa è festa tua ma dragon sta da pc no no c'è toti toti che è sta cosa toti ma io non vedo i nomi sulle persone ti seguo eh ho di un confidente ciao a chi va ragazzi anche io voglio abbonarmi ragazzuoli tutto insomma come volete voi eh o cliccate sulla tuber chat ed esce scritto abbonati oppure a fianco a iscriviti cioè ciao royal eh arrivo proprio allora per gli abbonati mi scrivano un attimo su Jenny scrivimi su instagram che ti faccio entrare in un gruppo basta con sto cazzo di ugo dovete entrare la mappa fenditura eh sì è entrata in quella di toti che toti stava vabbè non per forza c'è la tua ma c'è la tua quindi c'è la tua toti dammi qualcosa toti dammi qualcosa toti di buon cuore dai ma possiamo stare qui quindi dammi una terra eh non lo so io non so come funziona toti toti anche io voglio volare toti ma anch'io voglio costruire perchè tutti possono costruire io no cos'è questa mafia avviate la parte what gente no toti 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 mi sento confusa eh anch'io toti che devo fare toti devo prendermi le armi immelo ah ma possiamo andare nel mio adesso è massimo 7 mi sa che va a aumentare ogni volta che entra qualcuno no boh quindi più più io eh io non l'ho mai fatta io la gradiva va bene entriamo qua per favore da dati? arrivo no da me eh dove stai? aspetta dove andiamo a boh isola 1 va bene dai ah vabbè mi ha messo le robe mi ha tolto l'abbonamento e non me lo fattiva più ma come ah che mi è andata la riguetta necessaria no sei sei abbonato fammi vedere i toti fammi vedere i toti ma ci siamo andati ma ci siamo andati ah devo venire qua che cazzetto ma che è sta cosa lol qui ah ma io posso che spettacolo posso darvi le armi ah 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 Sì, ma dimmi come ti chiami che ti vanno da lì e se neanche sono capace non posso che ho 5 da niente a te, dai. Allora. Vediamo un po'. Ora vedrai le mie high skill per costruire tutti. Potete costruire tutti? Che spettacolo! Ciao Simona! Quindi potete entrare tutti. Eh no, mi fa che devi avere tutta la richiesta. Vabbè, come le accetto? Eh, devi tornare al menu. Eh, quella Epic devi accettare. Ah, caschio. Niente ragazzi, inviatemi la richiesta, la ragazza trattino basso ansia e vi accetto la richiesta sull'epics in casa, se volete entrare. Ve lo dite in chat. Mi dice che sono abbonato, ma il 12 febbraio si toglie. Sì, sì, allora l'abbonamento è mensile, se non sbaglio. Quindi ogni mese se vuoi abbonarti, devi abbonarti poi una volta. Non puoi fare l'abbonamento per sempre, ecco. Devi fare, se vuoi il prossimo mese abbonarti, ti abboni. Se no passerà un altro mese, se vuoi abbonarti il prossimo. Insomma, è tua scelta per questo. Oh, poti. Vorrei mandarti l'amicizia, ma hai troppi amici. Simona, dimmi il tuo nick. Raga, proprio fortissimo. Pochi complimenti. Forse arrivo, io non posso. Vabbè, tranquilli ragazzi, non è un problema. Non è un problema. Vediamo con quanti possiamo escere. Quanti siamo? Non ho nome online. Non è un problema, non è un problema. Dov'è Kate? Sai che ho preso la forma sbagliata, Toddy. No, non è vero. Ma non si fa che è un cazzo qua? No, in realtà sì. Vi do le armi. Dai permessi. Perché in teoria puoi dare i tuoi che hanno materiali infiniti. Sì, i materiali infiniti potreste crearli tutti. Toddy, spiegacelo in chat, dai. Questo è solo dei fattori. Allora, aspetta. Andami capire. Allora, la mia isola. Ah, ok. Modalità di gioco, gioco libero, tutti contro tutti, 5 minuti. No, di più. No, alberto. No. Pedane, generazione, luogo di generatore di più, isola. Quest'azione di gioco, salute, conteta, scuoli vuoti, unizioni infinite, sì, no. Ma c'è già la coda, però, si chiude. Gravità. Vai, rifacciamo, va. Sei sempre all'altezza di regiazione normale, sì. Torniamo. Non mortale. No. No, tutti. Perfetto, potete modificarlo tutti. Easy. Ma la vedete tutti il telefono? Oh, odi, sei calmo. No. Eh, io posso mettervi le armi, sì. Allora. Ah, ok. Porca. Misaria. E ora te la mando, ok? Non ho mai shoppato, eh, posso capirti. Nel senso, non ho le skin che avete tutti, ho le skin vecchie. Vediamo un po' di questi. Ok, tu dove sei? Ma facciamo danno? No. Sono bloccato. No, vado, sono guante. Ma non ci facciamo danno? Ma che cazzo? No, raga, voglio l'aereo, come si sente? Dov'è l'aereo? Eh, non lo fa un monto. Di uno su del telefono, io. Dispositivi? Ah, eccolo. Oh, eccolo. Ma la mini da dove è andata? Ma cazzo, che si fa? No, è arrivato il limite. Cazzo. Ok, come si folla? Come si folla? Ah, allora, retromarcia. Ok. Cazzo. Retromarcia, 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 retromarcia. Non vai a retromarcia a sto cosa? Ok, sì. Non posso volare. Non posso volare. Sono bloccata. No, allora, ok. Ah, figo. No, vabbè. Da quando esiste? Magari, se non funziona questa cosa, io no. Dove sei? Non possiamo esplodere? Raga, qualcuno costruisce due torri. No, scherzo, scherzo. L'hanno già fatto. L'hanno già fatto. Vabbè. Oh, cazzo, per cazzo. Ah, ma lo distrugge completamente. No, mi sono messo la merda da solo. La merda. Grazie. Raga, vuoi funzionare il terapolo? Eh, allora, praticamente è come un inventario. Con L2 poi vai sui dispositivi. Non posso entrare, se non mi accetti l'amicizia. Io devo tornare al menu, aspetta. Ma voi potete stare, anche se io sono fuori. Allora, aspetta un attimo che devo un attimo scendere da qua. Devi scendere, ok. Praticamente, devi andare... Una volta che sei sul telefono, porca, non ci stare, ok. Una volta che sei sul telefono, fai frecciare in alto. E hai tipo creativa, no? Cos'hai? Ah, devi cremare L1. Non ti spunta? Prova a rientrare con me nell'isola, tanto devo entrarci pure io. Oh, ma ho tirato una laggata enorme! Ah, merda. C'è, quindi possiamo costruire un'isola e distruggerla, e costruire, madonna quante richieste. Allora. Ah, mi penso che mi abbono all'isola Zodiac e non esco più. Ah, ah, troppe, troppe, troppe. Allora. Datemi un attimo che cerco di accettarvi le richieste. Come si entra? Devi accettare la richiesta? Cioè, devi mandare la richiesta? A Epic. Ma posso aggiungerli tutti? Penso di sì. Accetta. Eh, devo fare ogni volta così, mamma mia. Ne ho, ne ho troppe. No, veramente ne ho tantissime. Come faccio ad accettarle tutte insieme? No, no, ragazzi, veramente, come faccio? C'è un modo per accettarvi tutti insieme? Che non posso? C'ho 654 richieste. Toti, no? Fai schifo, eh, se mi trappi, Toti. No, io vorrei accettarvi tutti. Toti è veramente un uomo senza palle. Che è stuposo, spiegatemi. E niente, devo fare così. No, io non so, posso dire. Sì, raga, però ci stiamo veramente ravita. Posso entrare da voi? Sì, 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 entrate. Eh, vabbè, Toti, sono morto, vai, kill. Un attimo, eh. Cazzo. Cazzo. Ah, forse fare così, ok. No, per forza. Eh, intendo quelli della live, mi dovete dire un attimo. Allora, questo lo avevo letto. Ha certo quella che sono arrivata da poco. Eh, ma no, no, perché veramente siete troppi. Troppi, troppi. Oddio. Oddio, per cazzo. Sono altri 354. Eh, no, no. Ma non li metti in ordine alfabetico? Ma mi sa che ti ho già accettato perché sono in ordine alfabetico. Ho preso. E però sono caduto. Te l'ho mandato tipo cinque minuti fa. Eh, sì, ti avrò accettato, allora. Oh, puoi mandare su Play e mi chiamo. No, mi devi dire come ti chiami su Epic, Giacomo. Oh. Ah, Giacomina, scusa. Madonna. Eh, Toti, come faccio a degenerarmi adesso? Di solito non ti ho mai intanto. Grazie mille per la donazione. Se mi dici come ti chiami su... Sull'Epic cerco di... Ma tu sei morta, no, Nugo? Sì, assolutamente sì. Oh, Giacomina, due euro, già l'hai visto. Sì, sì. Oh, è arrivato. È arrivato. Eh... Toti, questo che a me adesso è entrato. No, perché mi si sta poggando il mondo? Fai 1v1 con lui. No, è strano che non ci sia un modo per accettarli tutti. Eh, con la R, aspetta. Ma no, prima che arrivo la R ci stiamo un anno. Quando fai una live su Rainbow, probabilmente, nel senso, la faremo più avanti. Ok, l'ho... Con la L, un attimo, che stiamo arrivando. Ma lei mi ha inviato... Finché non mi rinviate la richiesta non posso accertarvi, ragazzi. No, 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 non sparare. Mi chiamo la ragazza, trattino un passo, ansia. Mi mandi le amicizie. Io non posso chiamarvele, ragazzi. Non posso mandarvele. Me le dovete mandare voi. Ehm... Chi mi sono persa? Sali qua, ritardabile. Ah, ok. Facciamo così. Li accetto così, facciamo prima. Ma... Ma... Ah, il letto quadrato... Era, tab, quadrato... Eh, mamma mia, quanti siete. Raga. Appena entri nella creativa possiamo entrare... Raga, se vi abbandono un secondo... E torno più tardi. Ah, va bene. No, ma non credo durerà molto la live. Nel senso, questa cosa... Allora, facciamo così. Facciamo così. Ehm... Facciamo che io adesso vado ad accettare tutte le richieste. E la prossima live su Fortnite la facciamo in creativa. Ci state? Perché mi sembra l'unico... L'unico modo plausibile. Perché siete veramente tantissimi. No, no. Veramente, non scherzo. Siete troppi. Guardate qui. Sono 650 inviti. È impossibile farlo adesso. Eh, ok. Facciamo così anche perché... È arrivato il coso. Ok, va bene, va bene. Niente, ragazzi. Facciamo così. Allora. Mandatevi tutti la richiesta sull'Epic Games. Mi chiamo la ragazza trattino basso ansia. Nel caso in cui questa cosa dovesse, insomma, un attimo essere troppo, troppo grande. Farò un altro account a parte che userò soltanto per Fortnite. Ok, quindi quando farò quell'account vi dirò il nome. Mi manderete la richiesta sull'Epic Games e farò le sessioni creative soltanto per voi. Potete mandarmi tutti la richiesta in quel caso. Ehm, voi continuate a condividere la live e mi raccomando a, insomma, condividerla con i vostri amici. Facciamoci conoscere e ci vediamo una prossima live. Vi ricordo di passare da Kate, anche lei streama, soprattutto su GTA. Facciamo tantissime attività lì, un sacco di raduni, quindi mi raccomando seguitela. Si chiama Plunk8YouTube. Ehm, vi ricordo di passare anche dal mio canale Instagram. Vi trovate alibi trattino basso YouTube. E anche su Twitch allo stesso modo. Quindi ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere rimasti. Grazie mille come ogni volta. Grazie mille a chi ha donato, a chi si è abbonato. Vi mando un bacione enorme, anche se state qua, anche quando sto male. E ci vediamo alla prossima live, ragazzi. O al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!